Ormai da settimane Barbara D'Urso ci regala video simpatici e allegri nei quali si mostra impegnata in diverse attività domestiche, come spazzare casa, in home, come pilotare un aereo L'aereo continua ad essere piuttosto ricorrente nei suoi post, tra gli hashtag, nei commenti, nelle foto Ormai è chiaro che i post di Barbarella non siano fini a se stessi, ma sono delle vere e proprie anticipazioni dei programmi, o della serie tv La Dottoressa Jo, che la vedranno protagonista nella prossima stagione televisiva Dove ci porterà questa volta l'aereo della D'Urso? Ecco svelata un'altra chicca. Un ballo sul letto vestita da tenager Codini e salupette E nel commento al post? Un altro backstage di qualcosa che vedrete molto presto?